Ciao a tutti da Federico di Seconda Vita. Settembre 1942. Dopo il successo da solista con il brano Night and Day di Cole Porter, entrata nella top 20 statunitense, Frank Sinatra inizia a pensare seriamente di proseguire da solo, abbandonando l'esperienza triennale con l'orchestra di Tommy Dorsey. Ma lasciare la band non è cosa semplice. In 15 mesi Frank è diventato il cantante più famoso del paese, soprattutto tra le adolescenti. Tommy lo sa e non vuole lasciarlo andare via tanto facilmente. Per acconsentire, Tommy impone a Frank un'unica condizione, decisamente incredibile, un terzo di tutti i suoi futuri guadagni per il resto della sua vita. Sullo scioglimento di questa clausola girarono al tempo molte voci in relazione ai rapporti che Frank pare avesse con la malavita del tempo. Lo stesso Dorsey racconterà di essere stato avvicinato da gangster, ma tutte queste versioni risultano oggi inattendibili. Più probabile fu l'intervento dell'avvocato di Frank, Henry Jeffy, che rappresentava anche la Federazione Americana degli Artisti Radiofonici. Quella condizione era troppo vincolante ed avrebbe precluso allo stesso Dorsey la sua esposizione in radio. Fu raggiunto un accordo economico e la questione fu chiusa, non senza le maledizioni di Dorsey. Dopo aver lasciato Tommy, l'ascesa di Sinatra è lenta. Con il mondo in guerra, un cantante che si mette per conto proprio non fa grossa notizia. Rientrato così nel New Jersey, Frank inizia a lavorare per un teatro locale di Vaudeville, che inizia a pululare di talent scout alla scoperta dei motivi per cui i ragazzi sembrano impazzire per la voce di Sinatra. La prima offerta importante arriva dal teatro Paramount di New York, che inserisce Sinatra come attrazione extra per il veglione di Capodanno. In programma, la proiezione del film Signorine non guardati i marinai e la musica di Benny Goodman in persona. È un'occasione che Frank non può lasciarsi sfuggire. O la va o la spacca. Quando Frank viene annunciato da Benny Goodman, il pubblico lo accoglie con un boato assordante. Era iniziata la Sinatra mania, lo stesso fenomeno che si verificherà 12 anni dopo con Elvis e 20 anni dopo con i Beatles. Per le sue giovani ammiratrici, soprannominate dalla stampa Bobby Soxers per via dei calzettoni bianchi che indossavano, Sinatra diventa l'oggetto del desiderio. Ad ogni sua nota un po' ammiccante, le ragazze sospirano o gemono e ogni volta che il cantante accarezza il microfono, una geniale trovata del suo manager George Evans, le Bobby Soxers vanno letteralmente in estasi. Sarà lo stesso Evans a ribattezzare Sinatra The Voice, così come Swoonatra dal verbo to swoon, che significa svenire, andare in estasi. Un modo intelligente per alimentare sulla stampa il neonato fenomeno del sinatrismo. La crescere della popolarità mediatica del cantante è aiutata anche dalla radio, dove Sinatra si esibisce dal vivo interpretando i più grandi successi del momento per lo show Your Hit Parade, uno dei più importanti del periodo. Grazie alla radio, in poco tempo Sinatra diventa una stella, tanto da interessare anche l'industria discografica. È Manny Sex, dirigente della Columbia, il primo a voler sfruttare la nuova popolarità del cantante. Così, dal giugno del 1943, accompagnato a cappella dai Bobby Tucker Singers, una ingegnosa soluzione per superare uno sciopero dei musicisti iscritti al sindacato, Sinatra registra le sue prime facciate, dopo la separazione da Tommy Dorsey. Tutte e sei le facciate, di modesto interesse, sono contenute nel primo di 12 volumi, che presentano l'integrale delle registrazioni Columbia del cantante Dioboken nel periodo 1943-1952. Tutti e 12 i volumi sono disponibili su Quobuz in qualità CD. Il periodo alla Columbia, che si completerà dopo quasi un decennio con più di 250 brani registrati, è considerato come una fase di riscaldamento rispetto a quello più maturo alla Capitol. Questi brani sono e restano musiche degli anni 40. Riascoltati oggi non appaiono proprio immortali o senza tempo. Sinatra non è ancora il vulcano degli anni d'oro e qui privilegia più un cantato dolce, limpido ed innocente. Gli stessi arrangiamenti, seppur curati, risultano oggi troppo Demodè. Nel primo volume della raccolta a Columbia sono presenti anche i brani registrati per uno dei due film della RKO a cui Sinatra partecipa nel 1944, Ayer and Ayer, Da noi il denaro non è tutto, e Hotel Mocambo. Si tratta di simpatici remake di commedie musicali di Broadway, tagliati apposta per far emergere le parti di Sinatra. L'interesse per il cinema spinge Frank a spostarsi con la famiglia in California, dove non può rinunciare all'offerta della MGM per girare con Gene Kelly, scelta che farà salire alle stelle il suo cachet, non senza parecchi sacrifici fisici. Con la fine dello sciopero dei musicisti nel novembre del 1944, finalmente Sinatra poteva iniziare ad incidere regolarmente per la Columbia, registrando dozzine di brani, quasi tutti finemente arrangiati da Axel Stordal, che divennero la colonna sonora degli anni della guerra e dell'immediato dopoguerra. Tutti i brani di questo periodo completano il primo volume della raccolta che ho già citato, che arriva a toccare il 1945, anno in cui questi 78 giri iniziano ad essere raccolti anche in box da otto facciate, da parte della stessa Columbia. The Voice of Frank Sinatra in particolare vedrà una riedizione in long playing a 33 giri e un terzo nel 1948, diventando il primo disco pop della storia nel nuovo formato in vinile. Ma nel 1945 Frank si farà notare anche per il cortometraggio The House I Live In, che gli valse addirittura un Oscar speciale. Si addiceva perfettamente perché ero coinvolto nei movimenti antirazzisti. C'erano dieci bambini e io sentivo un baccano nel vicolo esterno dove stavano aggredendo un altro bambino e io gli facevo un bel discorsetto. Anche il brano The House I Live In è contenuto nella raccolta a Columbia, in questo caso nel terzo volume. Nel biennio 1945-1946 Sinatra sarà all'apice della popolarità, arrivando ad esibirsi anche in 45 spettacoli a settimana e cantando da 80 a 100 canzoni al giorno, tutte presenti nei primi quattro volumi della raccolta. Ma l'ondata di successo inizierà pian piano a stravolgere l'equilibrio psicologico di Sinatra, che diventerà arrogante e sempre più intollerante verso la stampa e la vita familiare. In questo periodo in cui Sinatra frequenta assiduamente Hollywood, rimane attratto dalla sua mondanità e soprattutto dalle sue presenze femminili. Fra le tante, Marilyn Maxwell e Lana Turner sono quelle con le quali Frank ha anche delle storie. Un comportamento caldamente osteggiato dal suo manager per il danno di immagine che avrebbe inflitto al mito del cantante romantico, marito fedele e padre amorevole. Per quanto possibile, la moglie Nancy riuscì a mantenere l'equilibrio familiare con il donnaiolo Frank, ma il suo amore divenne imprevedibile e presto riemersero le accuse di connivenze con la mafia per un suo sospetto viaggio a Lavana, dove il boss Lucky Luciano viveva in esilio. Sebbene Sinatra frequentasse quell'ambiente, non venne però mai incriminato ufficialmente dall'FBI, nonostante le migliaia di pagine e di dossier dedicate alla faccenda. Un giornalista in particolare, Lee Mortimer, iniziò una personale campagna denigratoria verso il cantante, accusandolo di essere addirittura un corriere della droga. Sinatra arrivò anche alle mani con Mortimer quando lo offese in pubblico. Queste contraddizioni tra l'uomo e la sua musica iniziarono a minare l'immagine che il pubblico aveva di lui. E la situazione non migliorò di certo quando iniziò la sua storia extraconiugale con Ava Gardner. Ben presto Sinatra e la Columbia si accorsero che il suo stile canoro stava passando di moda ed iniziarono a correre ai ripari per aggiornarlo, adattandolo alle mode del momento. Il nuovo Sinatra si inizia ad ascoltare già con i brani contenuti nel quinto volume della serie The Columbia Years, concentrato sul 1947, dove non è raro incontrare i duetti con Dina Shore e addirittura con i vecchi compagni dei Pied Pipers. In questo stesso periodo non mancano rivisitazioni di grandi ballate classiche come Autumn in New York, contenuta nell'ottavo volume. Ma questo rinnovamento diventerà pian piano insostenibile per il cantante, soprattutto dopo l'arrivo di Mitch Miller a capo della Columbia nel 1950. Nonostante la guerra non avesse colpito direttamente gli Stati Uniti, il conflitto lasciò comunque nella società un grande senso di inquietudine e di incertezza riguardo all'effettiva conservazione della pace di lì al futuro. Questo senso di ansia lo si percepì per esempio nel bebop, un jazz di estrema intensità e stile. La musica popolare rispose a quest'ansia con una produzione di puro consumo, che vendeva molto ma mal si adattava all'interesse di un artista come Sinatra. Frank continuava a scegliere brani contrari a questo deterioramento artistico, ma le sue vendite erano a picco. Il suo atteggiamento in pubblico restava contraddittorio, fino a diventare poco gradito. Agli insuccessi commerciali con la Columbia si unì la rottura del contratto con la MGM, che invocò la clausola morale per la sua condotta con Ava Gardner, seguita da tutti i giornali scandalistici. L'aggiunta delle difficoltà finanziari indussero Frank ad accettare ingaggi a Las Vegas e nei locali notturni di Atlantic City, gestiti da gangster, pur di riprendersi economicamente. In una di quelle serate Frank raggiunse il punto più basso della sua carriera, un punto dal quale poteva solo risalire o uscire di scena definitivamente. Lavoravo sodo per pagare le bollette. Lavoravo troppo. All'improvviso sentii qualcosa spezzarsi. Cercai di cantare una nota, ma non usci niente. Sentivo di inghiottire il mio sangue. Tutti sapevano che era successo qualcosa di grave. L'uomo parlerà mai dei suoi periodi bui? No. L'uomo è un inguaribile ottimista e crede fermamente nei cliché. Ma credo che prima o poi mi accadrà qualcosa di buono. Cosa gli accadrà lo scopriremo al prossimo episodio dedicato alla vita e alle opere di Frank Sinatra. Per questo video è tutto. Ciao e grazie da Federico di Seconda Vita.